Il messaggio che mi sta più a cuore è che la bellezza è complessità, diversità e soprattutto libertà. Sono Veronica Ioco, ho 26 anni e sono un'atleta paralimpica. Per me è importantissimo raccontare la mia storia di bellezza, perché so quanto possa cambiare la vita di tantissime ragazze e ragazze. La bellezza per me è un percorso lungo e che ha cambiato molto la mia vita. Sicuramente quando adolescente vivevo la bellezza in modo un po' più conformista, un po' più stereotipato e poi grazie anche alla mia malattia ho capito che devo valorizzare ogni aspetto di me stessa e la mia diversità. Mi prendo cura della mia unicità mostrandola sempre di più ogni giorno. Ringrazio la mia pelle ogni giorno ridandole l'amore che lei mi dà, idratandola. Essere diversi, essere unici e sentirsi belli cambia tantissimo e le rende liberi e questo lo auguro a tutti. Chi era nella mia pelle perché racconta la mia storia.